L'orologio che osserviamo è l'ultimo di una serie di almeno quattro orologi che si sono avvicendati nel palazzo a partire dal XVI secolo. È opera di un illustre orologiaio francese, Armand François Collin, che realizza questo orologio tra il 1852 e il 1864. Tecnicamente l'orologio è un orologio a pendolo regolato da un bilanciere che insiste su una ruota a Cheville. L'orologio è suddiviso in tre treni, rispettivamente uno per il tempo, che è quello centrale. Gli altri due treni sono pertinenti invece questo al treno dei rintocchi della suoneria, quest'altro al treno dei rintocchi dei quarti, perché questo orologio segnava, oltre alle ore, segnava il numero dei quarti, rispettivamente con uno, due, tre rintocchi su una campana di timbro differente rispetto a quella delle ore. Questo è quello che si dice la gran suoneria delle ore e dei quarti. L'orologio è di un'estrema robustezza, tant'è che lo stesso orologiaio realizzò orologi per moltissimi edifici pubblici francesi, tra cui i più importanti, ricordo l'orologio della cattedrale di Notre-Dame de Paris, ricordo l'orologio del Museo del Louvre, oltre a tantissimi altri orologi sparsi in tutta Europa. Quindi noi abbiamo un orologio di altissimo, di altissimo lignaggio, estremamente robusto, tant'è che è stata sufficiente una buona revisione per poterlo rimettere in funzione. E oggi, dopo decenni di abbandono, l'orologio ha ripreso a funzionare e a rintoccare il tempo di questa nostra felice città. Grazie.